La vostra agenda di prenotazione che può essere ancora telefonica, quindi io rispondo, inserisco come state sicuramente facendo oggi, oppure io ricevo un ordine web, cioè qualcuno entra nella mia app o magari nel mio sito internet o comunque in qualsiasi posto dove voi volete pubblicare un short link, quindi è una cosa ormai comune anche da inserire in un sms, dentro un whatsapp, a quel link ci sarà un modulo di prenotazione. Io vi dico, noi ristoranti siamo rimasti indietro perché ormai ovunque si prenota qualsiasi cosa online, un volo lo prenota online, un albergo lo prenota online, un viaggio in treno, in aereo, qualsiasi cosa viene prenotata online. E vi assicuro che nei prossimi anni ci ricorderemo come un ricordo lontano quello di prenotare telefonicamente, perché la telefonata è scomodissima. Io al Bounty la scorsa stagione ho trasportato l'80% delle prenotazioni sull'online, quindi in un semplice link, magari dal vostro sito, magari dove vi pare, come vi ho detto, ma è tutto molto più veloce. Tutto molto più semplice. Anche voi stessi non dovete più ricevere quella mole di telefonate che a volte si risolve in, no mi dispiace siamo al completo, no mi dispiace siamo al completo. Quello è tempo buttato via, delusione per il vostro cliente che magari cercava per due, tre ore o più di prenotare e poi non ha potuto e avete anche buttato via il contatto. Tutto questo non accade e non accadrebbe con Pienissimo Pro.